musica benvenuti su cazzo gamos videogiocchi oggi è per voi alfa challenge gamer e oggi ci troviamo nel secondo montaggio di csgo global offensive c'è contro strike nel secondo montaggio ho cercato di diciamo così di non fare sempre le stesse kill short dovete anche alcune volte il check in o lo sniper o la vp poi ho una chicca finale solo per voi appunto ve la dirò alla fine però purtroppo io non è che registro direttamente la partita ma registro dopo cioè prima gioco e poi la registro e poi non viene tutta la parte di quella chicca però molti capiranno vi lascio al video ci vediamo alla prossima grazie a tutti 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 Grazie a tutti